Le istruzioni sono in spagnol, come cavolettis faccio a capire Spero ci siano le istruzioni Ragazzi ci sono 4 cose in croce dentro Ma che roba è raghi Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video Come state? Spero tutto bene Come avete passato questa vostra giornata Spero bene Allora ragazzi, sono tornata con un nuovo video Dove vado ad aprire con voi oggi una nuova mystery box Ma non è una mystery box né di Tiger né stramba Anzi forse stramba sì Perché l'ho comprata da Amazon Ne presi un paio mi pare già un anno fa Un anno e mezzo? Probabilmente sì E oggi ci ho riprovato Questa box l'ho pagata, boh mi pare 30 euro se non mi sbaglio E c'è scritto proprio sopra mystery box Guardate qua che carina E niente, dovrebbero esserci delle cose miste Non so, ho preso anche un'altra mystery box che ho qui Che è di make up Magari se questo video raggiunge parecchi like Andiamo ad aprire comunque insieme Ora vediamo qua dentro cosa esce però prima Sono molto curiosa Se vi piacciono questi video di mystery box Se ne volete altre anche magari a tema Lasciate un pollice in su Iscrivetevi al canale Attivate la campanella per ricevere tutte quante le mie notifiche ragazzi Carico video tutti i giorni alle ore 14 e 30 Sempre Non mi prendo mai pause ragazzi Nemmeno a Natale mi prendo pause Quindi restate connessi sempre Ma prima di iniziare questo video Facciamo un bellissimo gioco Allora Il gioco di oggi è Lo mangio o lo scarti La mangeresti questa cosa o la scarteresti? Scrivetelo giù nei commenti Allora sono curiosa di aprire questa mystery box Diciamo che le recensioni non erano molto buone Però io non mi sono scoraggiata E l'ho presa comunque E' arrivata un po' tutta rovinata sopra Quasi mezza petta Non lo so Vediamo un pochettino Mi servirebbe qualcosa per aprire Prima ancora vi volevo ricordare un'altra cosa 4 di dicembre Ci saranno i miei slime di Natale sul mio sito E vi volevo dire ancora Che trovate sul mio sito già la mia calza Yolanda Switz Perché so che Da molti di voi A Brescia o Bergamo Se non mi sbaglio Ditemi dove si festeggia Santa Lucia Si festeggia Santa Lucia Quindi se volete I miei slime o la mia calza per Santa Lucia La trovate già sul mio sito Ragazzi Spedizioni super velocissime Con corriere GLS Quindi Se volete Affrettatevi Allora Diciamo che il pacco E' mediamente pesante Quindi boh Sono curiosa di vedere cosa Potrebbe uscirci Da questo pacchetto Allora siccome è Mystery Box Ah no ci sono Ah ok Allora andiamo a mettere la mano dentro E vediamo un pochettino Magari cosa troviamo Prima cosa Primo pacchettino No Ma è scritto in Espanolos Allora io vi avvicino un po' Con la videocamera Così potete vedere E' uscito questo Praticamente è Crecimiento dei cristalli Penso si facciano i cristalli Con questo coso Che carino Vediamo un pochettino Vado ad aprire Uuuu Interessante Addirittura c'è una mascherina Oramai con le mascherine Stiamo ciccicocco Bellino Allora Vediamo un po' Ah ma Fosfato monoamonico Poi Che sono questi Colorante alimentare E Sì ma Cioè se le istruzioni Sono in spagnol Come cavoletti Faccio a capire Spero ci siano le istruzioni Ci vuole tempo Allora facciamo una cosa Vediamo prima cosa c'è Dentro Queste cose E poi dopo alla fine Andiamo a Creare questo cristallo Allora Vediamo Qualcosa in fondo Però Vediamo Ah ne ho trovato un altro ragazzi No Che cos'è Credevo fosse uguale Ho detto vabbè Ciao Ciao Questa è già C'è un'altra cosa uguale Siamo bene Allora Occhiali 3D Illusione ottica Interessante Però Molti dicevano Eh questo pacco In realtà Probabilmente è vero Cioè io l'ho pagato 30 euro Ma mi sa che dentro Ci sono cose pari Forse a 5 euro Se tutto va bene O forse anche 10 Allora Bisogna costruire I propri occhiali Belli Questi I film 3D Ok Dopo lo andiamo a costruire Sempre a fine video Facciamo tutte e due le cose Prima però voglio vedere Cosa Cosa ci propina Dentro questo pacco Allora Oddio Santissimo Che cosa è Che stucoso Allora In spagnolo Grazie Spor Al Al Quir Essa casa Misteriosa De Neo E spero Che te gusti Me la scritto anche in inglese Thank you for your Porche Porche This Neo Mystery box I hope you like it Si I like it Spero solamente Che escano cose carine Che roba Oh No No Ecco perché pesava Ma io spero ci siano altre cose No raga Non c'è stato niente Non ci posso credere E c'è questo Ma ve lo ricordate questo Che io già lo comprai Non ci posso C'è Raga ci sono quattro cose in croce dentro Quattro Quattro cose in croce dentro Allora Attenzione Mi è uscita questa cosa No Ci sono rimasto un po' male Perché per 30 euro C'è Allora Quanto può costare Sto gioco delle scimmiette Che se non so Se vi ricordate Mi uscì già Da una mystery box Ci sono rimasta molto male Però questa no Devo dire È la prima volta Andiamo a vedere Che cos'è Allora È una borsa d'acqua calda Suppongo Questa è bella Questa secondo me Se la compri da Amazon Costa un po' Forse anche 15-16 euro Allora Stacchiamo Bisogna metterla In micro Vediamo se c'è L'italiano Ragazzi Perché Ecco sì Pellosh Baby BP Sono adatti per il microonde Uso consigliato nel microonde Riscaldare il prodotto Per 90 secondi Di 800 watt Mantiene il calore Per un'ora Adoro C'è praticamente Questo Si mette il microonde Si riscalda Questo è buono per me Quando mi viene il ciclo Sì Sì Raga voi come fate Voi ragazze Sì Voi donne Ragazze Che mi seguite Come fate Quando mi viene il ciclo Quando ci sono dolori Incommensurabili Che vorreste solo Schiattare nel letto Fatemi sapere come fate Perché io Uso la borsa dell'acqua calda Questa è una valida alternativa Molto bella Per non fare sempre l'acqua O per non usare quella L'elettrica Questa la metti in microonde Con questi cosini Che si Che cos'è qua sopra? Che si risca? È profumata Ma Ma Non lo so Ma è profumatissima Comunque Buono Questa mi piace È fatta bene Poi è morbidissima È carino Dai Vabbè A parte il giochino Delle scimmiette Che Oramai Veramente quello là Che avevo l'ho regalato Quindi Allora facciamo una cosa Andiamo a costruire La nostra Pietra Misteriosa Che è Crescimento De cristales Allora ragazzi Ho diluito in acqua calda Quella roba Con il colorante Adesso La vado ad inserire All'interno Del cristallo Cioè quello che dovrebbe Essere poi il mio cristallo Quindi boh Cioè Andiamola a mettere Ok Ok E poi alla fine Questo sale sopra È per forza Ah Cavoletti di Bruxelles Vabbè Ok Ok Ce l'ho fatta L'ho fatto restare giù Credo Non dovrebbe salire sopra Questo è quello che È uscito Vabbè Lo lasciamo da parte Poi vediamo se Vengono i cristalli Oppure no Ma Per il Gli occhiali colorati Ho pensato una cosa Perché è uscito Sto cosa di cartone Dentro Proprio super Pezzottissimo Siccome io Ho gli occhiali Vado ad inserirmi Questi cosi Dentro i miei occhiali Scusate Cioè Perdonatemi Ha senso Questo è un cuore Voi come lo vedete Io non lo so voi come lo vedete In questo caso Questo che cos'è È un angioletto Con un coso Non so voi come lo vedete Questo Eh Non lo so Questo che Che Ma che roba Che Ma che roba è raghi Che roba strana Oddio ma voi che numero Riuscite a leggere qua ragazzi Non lo so Io No vabbè Boh Ah Wow Mamma mia Ok Allora raga Basta Niente Questo è tutto quello Che mi è uscito Dalla Mystery box Con cose Diverse E strane Che ho comprato Da amazon Beh Non mi piace molto La prossima volta vado ad aprire La mystery box Di ebay Di make up Quindi Pollice in su Grazie mille a tutti Per aver visto questo video Spero che vi sia piaciuto Intrattenuto e strappato un sorriso Vi mando un bacio Ed un abbraccio E come sempre Ci vediamo domani Alle ore 14 E 30 Con un nuovo video Bye